Bella raga sono Metal Matteo e siamo in un nuovo video e in questo video finalmente siamo in un nuovo tutorial ragazzi Come ricordate nel scorso tutorial ho fatto il ricaricavi bugs e il nuovo ricaricavi bugs che non siete perso andate a vederlo Allora in questo nuovo tutorial ragazzi cosa farò? Ho scoperto che in molte persone c'è stato un nuovo bug su Epic Games che c'è una missione che devi fare con Rats che è l'ultima missione Ecco è appunto quella dei cristalli ragazzi sapete che purtroppo questa missione è bugata ecco io sono qui apposta per farvi sapere come fare questa missione esattamente in un millesimo di secondo E riuscire a farla senza nessun bug quindi sbloccare il bug Buona visione Adesso vi farò vedere esattamente come si fa a sbuggare questa missione Allora semplicemente bisogna andare come prima cosa al punto iniziale dove c'è il boss della guia Allora andiamo esattamente dove c'è il punto viola come vedete qua c'è il ping viola Andiamo lì Sbettate solo un attimo che arrivo ecco qua Sì Qua c'è il ping viola Ed eccolo qua eccolo qua che lo vediamo Eccolo qua Eccolo qua Allora facciate quadrato Adesso cosa bisogna fare per sbuggarlo Adesso andiamo dai cristalli Ecco qua Andiamo dai cristalli Andiamo sul punto che non c'è bisogno che travestimento ci sia Facciamo lo spray Quindi anche se il travestimento non c'è Spicchionatelo e poi non fate lo spray Perfetto Siamo al terzo Ricordate non c'è bisogno di avere travestimento Quindi anche se dopo il travestimento se ne va Pure andate pure avanti Non c'è nessun problema Anche se il travestimento se ne va Potete andare avanti e la missione ve la fa da sola Bisogna semplicemente andare dai cristalli Dove vi sto facendo vedere adesso io E poi dopo picconarli e poi beccarli con lo spray E questo qua è appunto il metodo per sbuggarlo Eccolo qua c'è l'ultimo Picconiamolo e mettiamo lo spray Ecco qua Ed ecco qua come si faceva sbaccare ragazzi Ragazzi spero che questo attuale vi sia piaciuto Che soprattutto vi sia stato d'aiuto Lasciate un pollice in su Iscrivetevi al canale E attivate la caprina al massimo Bella